Allora, è ufficiale sia Fazio che la sodale Litizzetto se ne vanno dalla Rai. Ovviamente la cosa non può che destarci felicità. Felicità perché il problema non è la libertà di informazione, non hanno chiuso un programma, vanno in un'altra rete, vanno al Canale 9 e lì continueranno a mettere in piedi il loro teatrino, che è il solito teatrino, che è un teatrino intriso di propaganda, di una propaganda che è stata funzionale ai signori della sinistra e di una certa cultura fintamente progressista. Ci siamo sentiti per anni i predicozzi fintamente ironici della Litizzetto sulla qualunque. Per anni ci siamo sorbiti le pseudo-interviste di Fabio Fazio, il molle Fabio Fazio. Per anni ci siamo dovuti sorbire i personaggi del circo di Che Tempo Che Fa. E prima Saviano, e poi Cottarelli, e poi Burioni. Parlavano solo loro. La cosa che mi stava profondamente sulle palle è che parlavano solo loro. Per tantissimi anni hanno costruito una predicazione indisturbata e parlavano sempre e soltanto loro. Quindi va da sé che finalmente un rutto liberatorio si eleva. Si eleva perché ne abbiamo le scatole piene di questa provocazione. E lo ripeto, non c'entra nulla la libertà di espressione. No, perché non è che viene chiuso un programma. Per fortuna è scaduto il contratto e se ne possono andare per quattro anni a predicare altrove, al canale 9, dove incontreranno la banda del fatto quotidiano, di Crozza, eccetera. Bene, ora, il tema è anche un altro. E cioè è il tema di Fazio che ha sempre interpretato i panni della vita, non mi lasciano parlare, non mi lasciano qua, perché imparava sempre soltanto lui. Il tema però era anche economico. Una trasmissione come Che Tempo Che Fa è una trasmissione che di per sé era facile da allestire. Era una scrivania, un conduttore, un ospite. Poteva essere fatta tranquillamente, internamente dalla RAI. E invece che cosa fanno questi signori? Producono esternamente lo spettacolo. Cioè si affidano a delle società esterne, queste grandi società, Magnolia, che hanno un potere contrattuale rispetto agli ospiti. Cioè il tema non è la difficoltà o la facilità di allestire quello spettacolo. Lo ripeto, c'è un pubblico, c'è uno studio, c'è una scrivania, c'è un conduttore e c'è una sedia a volte due, una poltrona a volte due per gli ospiti, destinata agli ospiti. Ma il problema è esattamente i cachet da pagare per gli ospiti e per i personaggi dell'allestimento mediatico. Quindi è qua che mi sono sempre arrabbiato. Quindi non solo c'è una unidirezionalità di messaggio culturale, politico, ma c'è anche il fatto che ci dobbiamo sorbire un appalto esterno perché per far arrivare i bono di turno, faccio un nome, a predicare, devi pagarlo. E la RAI internamente non poteva fare quei contratti e quindi si affidava agli altri. Poi Fazio, per completare l'opera, si toglie dalla RAI e diventa un artista che ha pannaggio della sua stessa società e quindi si autoproduce. E' successa una cosa che quando ero in commissione di vigilanza portammo all'attenzione. E mai una risposta vera, mai una risposta vera o meglio, mai una risposta convincente. Quindi finalmente Fabio Fazio, l'Itizzetto, l'intero baraccone io immagino verrà portato via e andranno al canale 9 e benissimo. Ora, si tratta di capire se la nuova RAI avrà anche una nuova idea culturale di sostituzione. E questo è fondamentale. Si tratta di capire, una volta per sempre, se avranno il coraggio di costruire qualcosa di diverso. Perché loro per anni, anni e anni, Fabio Fazio e compagnia, hanno fatto agli italiani un lavaggio del cervello. Ora si tratta di capire se, e io mi auguro di sì, se la nuova RAI, non ha problemi a dire di centrodestra, tanto così non facciamo ipocrisie, se la nuova RAI avrà una visione culturale diversa rispetto a quella che per anni ci hanno dato, con l'effigie, con la griff dei progressisti, ci hanno dato a RAI 3. E poi da RAI 3 l'hanno portata a RAI 1, perché Coletta veniva da RAI 3 ed è andato a RAI 1 e la cultura di RAI 3 l'ha portata su RAI 1. Quindi, ragazzi, un capolavoro assoluto. Basta, io direi che su questo possiamo salutare Fabio Fazio, salutiamola Litizzetto, nella speranza poi di vedere altri, altri, altri cambiamenti, sì, altri cambiamenti. Perché, onestamente, di sentire sempre le solite lezioncine dallo Signore mi sono anche abbondantemente rotto le scatole. Grazie a tutti e buona domenica.